Cala il sipario sul girone F di Serie B e dall'ultima giornata Vasto Girardi e Castelnuovo si spartiscono a posto in palio con il risultato finale di 1-1. A Ruggeri risponde Emili, sempre dagli 11 metri. Con questo risultato entrambe le compagini sono condannate agli spareggi play-out ed ironia della sorte si affronteranno per la seconda volta nuovamente a Vasto Girardi. Ai neroverdi di Mister Di Fabio, domenica prossima, servirà a espugnare il Ditella senza sparvoli squalificato. Pronti via del Vasto Girardi mette il muso avanti, sulla destra fanno male i padroni di casa, Guadaluppi fallisce clamorosamente l'appuntamento col gol, il pallone carambola sui piedi di Alagia che viene fallosamente stoppato da Natale. Dal dischetto si presenta Ruggeri che spiazza il numero 1 neroverde e profita immediatamente in vantaggio i molisani. Sulle ali dell'entusiasmo i giallocelesti provano a ripetersi sempre di testa, prima con Acunzo che impegna seriamente Natale e poi con Buglia che centra pericolosamente la traversa dagli otta posizione. Alla metà della prima frazione si sveglia finalmente il Castelnuovo, illuminante il servizio in verticale di Emili per Degidio che occhi negli occhi con Distasio si lascia ipnotizzare dal portiere e sciupa tutto. Pochi minuti più tardi si mette in proprio colì con un guizzo d'alta scuola, soltanto uno strepitoso Distasio in allungo può dirgli di no. La partita si riequilibria sul piano agonistico ed il Castelnuovo alla lunga esce bene. Bella nel finale del primo tempo la giocata di Emili che pesca sul secondo palo Ludovici, impreciso nell'impatto con la sfera. A rientro dagli spogliatoi provano subito a scuotersi gli abruzzesi. Il cross per Colì è perfetto, la girata di testa anche, ma il direttore di cara ferma tutto per un'infrazione del numero 9. Poco male per i suoi, perché al nono i neroverdi si conquistano il penalty prezioso, strepitoso alla discesa sulla destra di Ludovici, spinto da dietro al momento del dunque. Dal dischetto si presenta Emili, glaciale, nulla da fare per un buonissimo Distasio, ed una una al di Tella. E' tutto un altro Castelnuovo quello del secondo tempo, furbo anche Emili, con l'ingirata impegna l'estremo locale all'intervento super. Sulle ali dell'entusiasmo provano a spingersi i trequartisti ospiti. Lo spunto col mancino di Sparvoli coglie soltanto l'esterno della rete. Nel momento migliore dei suoi, però, proprio Sparvoli lascia in dieci i propri compagni a metà secondo tempo. Il direttore di gara si consulta con un suo assistente e punisce il numero 11 neroverde per un presunto colpa a palla lontana. Restano i dubbi. La partita allora si incattivisce, fiocca qualche cartellino giallo. Il Castelnuovo continua a costruire occasioni da rete, prima con De Gidio, bel fendente dal limite. Sul tapin è scordinato Emili, che da due passi non riesce a siglare l'1-2. Per il vasto Girardi, in superiorità numerica, l'opportunità migliore capita sui piedi di Ametai, che impatta sulla sagoma di Natale. Nel finale di match alza nuovamente i giri del motore la squadra di Prosperi. Strepitosa la sgroppata sull'out mancino. Alagia calcia a botta sicura, ma colpisce a Metai, colta in posizione di offside. L'ultima chance per i neroverdi capita sulla testa di Pulsoni, che di testa incrocia troppo debolmente. Dall'altra parte, un grande guida apparecchia la tavola per Prado, che da buonissima posizione non sorprende Natale. Non succede più nulla. Due squadre giovani, che giocano un buonissimo calcio, saranno costrette a riaffrontarsi per evitare una spiacevole retrocessione.